Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Lecompost e bentornati in questo nuovo video è una finale di biciclette con Andrea, che sarebbe lui, Domenico e dove è Cristian, il famosetto che è arrivato secondo che è sempre sfortunato, secondo, allora saremo qua a momenti per la finale, quel tavolo che è Sono partiti, andiamo a vedere, ragazzi, non so se riesco a vederli, eccoli qua, eccoli che arrivano per tagliare il traguardo Dopo una lunga gara, la classifica dice che Cristian è arrivato primo, questo bel bimbo qua è arrivato primo Andrea è arrivato terzo, e quello con la bicicletta rossa è arrivato secondo Dall'ombra di Lecompost è tutto, ci diciamo al prossimo video, bella ragazzi Ciao Ciao